Buongiorno, buongiorno, benvenuti o ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui con un'altra recensione, non partiamo altro tempo e partiamo subito! Il libro che esamineremo quest'oggi è... Eccolo qua... Robert Hugg Benson, il padrone del mondo. Benson, nato nel 1871 e morto nel 1914, e figlio dell'Arciverescovo di Canterbury, viene ordinato sacerdote nella chiesa anglicana. Nel 1903 si converte al cattolicesimo e l'anno dopo diventa sacerdote. E' autore di vari romanzi storici, fantastici e gotici, tra i quali Vieni ruota, Vieni forca, L'alba di tutto e I necromanti. Nel libro Il padrone del mondo di Benson, ci troviamo innanzi ad un mondo governato da tre grandi conglomerati statali, America, Europa ed Asia. L'ideologia dominante propone cibi artificiali, un esasperato pacifismo, l'eutanasia diffusa, anche se non si riesce a capire se i valori che hanno vinto siano stati quelli della massoneria oppure quelli del comunismo. Il cristianesimo è stato soppiantato come religione dominante da un'altra fede chiamato umanitarismo. I cristiani, anche se ufficialmente tollerati, devono vivere con l'incubo delle persecuzioni. L'unico posto loro sicuro è Roma, ovvero il Papa ha riassunto il potere temporale sulla città. L'autore descrive il rapporto con questo mondo dei due personaggi della parte opposta della barricata, un prete cattolico ed un esponente dell'umanitarismo facente parte del governo inglese. Sullo sfondo troviamo il personaggio di Giuliano Felsenburg, una sorta di nuovo messia venuto dal nulla, che si metterà a capo della Confederazione Mondiale per completare il progetto di ridurre l'intero globo terraqueo ad un unicum. Il libro mi ha fatto provare due emozioni completamente contrapposte. La prima parte mi ha fatto provare delle sensazioni di confusione in cui non riuscivo a mettere a fuoco i personaggi. La seconda parte, invece, quando l'azione cominciava ad andare più sul vivo, è riuscito a tenermi col fiato sospeso. Mi chiedo se la scelta del nome Giuliano da parte dell'autore per questo padrone del mondo si è dovuto, forse, al ricordo di Giuliano Imperatore, l'ultimo imperatore pagano, che cercò di contrastare la dottrina cristiana. Diciamo che questo non è uno dei libri che mi ha esaltato particolarmente. Certo, è una denuncia del modello di livellamento e omologazione portato avanti dal mondialismo, però dal punto di vista prettamente cristiano. Non è un libro che consiglierei, però, per chi vuole comunque vedere una visione diversa della medesima barricata, può tranquillamente spendere qualche giorno per leggerlo. Ed anche oggi siamo arrivati alla fine dell'analisi del nostro libro. Se vi è piaciuto vi ricordo di mettere il mi piace, iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video, se avete bontà e pazienza commentate pure qui sotto, ci vediamo alla prossima recensione e ricordate che chi legge vive mille vite, chi non legge mai vive una vita sola. Ciao a tutti!